In Sicilia continua a salire il numero dei nuovi contagi da coronavirus. Secondo il bollettino di ieri alle 18 del Ministero della Salute, sono 1.542 i nuovi positivi in tutta la regione. Si sfiora così la possibilità di entrare in zona rossa nelle ultime due settimane di aprile, ma da maggio si prevede la riapertura. Ha così dichiarato il Presidente della regione siciliana nello Musumeci, che in base ai numeri attende direttive dal Governo nazionale. Intanto da domani fino al 28 aprile altri quattro comuni siciliani entrano in zona rossa e scatta la proroga per altri otto, disposizioni dell'ultima ordinanza regionale firmata ieri mattina da Musumeci. Le nuove zone rosse sono Catena Nuova e Cerami in provincia di Enna, Mussumeli in provincia di Caltanissetta e Sant'Alfio in provincia di Catania. Secondo Musumeci il numero alto dei contagi è il frutto di Pasqua e Pasquetta, così come a gennaio aumentarono i nuovi positivi per effetto del Natale e Capodanno, che, dato i numeri, portarono il Presidente Musumeci a richiedere la chiusura di tutta la regione. Intanto si prosegue con le chiusure a zone in base ai contagi, ma non si esclude un prossimo lockdown per tutta l'isola.